Oggi rifugio Aquila, chalet Aquila. Buongiorno, benvenuto a un nuovo video, e non sarai ci te? Sono stanco, no non è vero. Guarda che splendida giornata. Oggi abbiamo preso una giornata proprio tappa. Chi è che sei te? Tefi. Girati. Chi è che sei? Tefi. Oggi è tutta matta, troppo sole. Allora, siamo praticamente a Collele, a Carbonera. Mi sono già a prendere il sentiero degli alpinisti, non mi ricordo il numero. Per l'Albani è praticamente l'unico sentiero, c'è solo quello. Non ti puoi sbagliare. Vai fino all'Albani, dopo ti dirò il sentiero. Comunque, come al solito, ho lasciato GPS e dettagli sotto il video. 20 minuti, siamo arrivati al rifugio Chalet Aquila. E niente, andiamo. Il giro è di circa 8 chilometri, mi pare. 7-8 chilometri, con un dislivello di poco più di mille, se non sbaglio. Guarda che bello. Wow. Una meraviglia oggi. Jovi, abbia bella. Ho! No! 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 Sì Guardate che panorama che ho di lato Uno spettacolo L'ha preso lana Oh mamma Oh cado Bene siamo all'Albani Che è laggiù Non ne entriamo neanche perché c'è il pieno così Qua siamo sulla pista da sci La gente viene giù a bomba E qua abbiamo la donna mascherata Niente è l'ultimo pezzo Non dovrebbe mancare molto No manca mezz'oretta Ok allora da qua si vede a occhio il rifugio Aquila che è lì Comunque sia in periodo diciamo normale Si attivo la seggiovia Se vuoi sciare puoi venire tranquillamente con la seggiovia O se vuoi farti una mangiata senza camminare Puoi farlo Vabbè ovviamente adesso la seggiovia è chiusa Oh incidente La seggiovia adesso è chiusa per ovvi motivi di covid Però di solito in funzione Ma in realtà anche adesso in funzione infatti non si capisce perché Vabbè Bene siamo arrivati a Corna gemelle Praticamente siamo dietro il rifugio Eccolo lì E adesso maniamo qualcosa E da qui Il panoramita Non è davvero niente male Infatti come pensavo La seggiovia arrivo fin qua Ed eccola lì Un pozzo pesco Un pozzo Un pozzo Un pozzo pazzesco Frontale del rifugio L'ora di un bel tè caldo E pettina di torta L'oriva di panino Ignorante Comincia a fare freddo Molto bene La nostra bella avventura Il rifugio Aquila Termina qui Dalla presa Non è tutto Il video lo concludo qui Ci vediamo In un prossimo giro Ovviamente sempre su Bici e Zendieri Buone camminate E buone passeggiate a tutti Ciao Con questo Panorama Ti lascio Saluto Astro Mau Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.